Amici e amiche di Sportme, benvenuti dal merendino di Capodorlando per la 25esima giornata del campionato Under 15 regionale. Si affrontano Free Time e Taormina, padroni di casa che si schierano con Pellizzeri, Frusteri, Incognito, Sava Rodriguez, Di Luca, Scaffidi, Scaffidi, Barbuzza, Fiocco, Alioto e Geranio. A disposizione Rundo, De Angelis, Conti e Gulia. Rispondono gli ospiti con Arena, Maiolino, Garufi, Mollura, Trischitta, Minissale, Resta Lunga, Pipitone, De Marco, Centorrino e Semutu. A disposizione Vancheri, Cusce, Mandini, Scrima, Pandolfino e Mazzeo. Incontro che sarà diretto dal signor Eros D'Amico della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Pronti per il calcio d'inizio, gioca il primo pallone il Free Time. Ottimo questo filtrante per Resta Lunga che corre a destra, Resta Lunga davanti al portiere, prova il tiro! Ed è quello buono, dell'1-0. La sblocca subito il Taormina e lo fa con Resta Lunga. Rivediamo il destro del 7 che ha superato Pellizzeri. Cambia subito il parziale del Merendino. Punizione da limite per il Free Time sul punto di battuta Alioto che parte adesso col destro. Pallone che finisce alto. Pallone buono per Pipitone che punta un avversario. Azione che si sviluppa sulla sinistra per il Taormina. Attraversone bloccato da Pellizzeri che poi perde la sfera. Insacca Semutu ed è il raddoppio del Taormina. Rivediamo la lettura errata di Pellizzeri e il tocco vincente di Semutu. Valido per il raddoppio giallo-blu. Pipitone vuole battere subito questa punizione. Riceve De Marco che si accentra. Prova anche il tiro deviato da parte di Pellizzeri. Altra occasione buona per il Taormina. Alioto punta a Minissale. Si accentra molto bene il 10. Avanza ancora nella corsa. Suggerimento buono per Conti che viene anticipato da parte di Garufi. Lettura perfetta del numero 3. Punizione per il Free Time. Arriva la conclusione diretta. Deviata in corner da Arena. Pallone vagante. Prova ad arrivarci Centorrino che vince un rimpallo. C'è un'ottima occasione per Semutu che corre sulla sinistra. Semutu col mancino. Realizza la doppietta e fa 3-0 per il Taormina. Va ad abbracciare. Resta lunga. Rivediamo il mancino preciso di Semutu che ha battuto. Ancora una volta Pellizzeri. Resta lunga. Giocano in orizzontale per Mollura. Deviato. Poi allarga sulla sinistra per Centorrino. Si salva in corner Pellizzeri. Resta lunga. Controlla sulla destra. C'è lo scarico per Centorrino. Che stavolta trova la rete. 4-0 per il Taormina. Rivediamo l'assist di Resta lunga. Buono per Centorrino. Che ha quindi calato il poker per il Taormina. Il secondo tempo comincia con 6 cambi per il Taormina. Dentro Vancheri al posto di Arena. Così come Scrima al posto di Maiolino. Inseriti anche Pandolfino per Mollura. Mandini per Minissale. Cusce per Resta lunga. E infine Mazzeo per Semutu. Taormina che manda quindi in campo tutti i componenti della propria banchina. Conti allarga su Frusteri. Pallone buono per Lioto. Che adesso punta un avversario. C'è la sterzata del numero 10. Arriva una deviazione. Viene ingannato Vancheri. Accorcia le distanze il free time. E lo fa con il proprio numero 10. Rivediamo il tiro di Alioto. Con la deviazione. Che ha ingannato Vancheri. Mazzeo controlla in aria. Prestato da un avversario. Scarica su Pipitone. Che allarga sulla destra. Colpo di testa verso il 18. Che controlla. Poi tira. E fa 5-1 per il Taormina. Mette il suo timbro. Anche Mazzeo. Rivediamo il suo controllo. E poi il tiro col destro. Che ha superato Pellizzeri. Riceve Trischitta. Tiro murato. Prova ad arrivarci sul pallone De Marco. Che adesso vince un contrasto. Anticipa Pellizzeri. E fa 6-1 per il Taormina. Rivediamo il guizzo vincente di De Marco. Pallone sotto le gambe. Pallone vagante. Recuperato da Geranio. Che vince un contrasto con Trischitta. Ancora un'occasione. L'undici. Che fa col Mancino. Traiettoria perfetta. Che si inzacca alle spalle di Vancheri. Secondo gol del Free Time. E adesso vuole giustamente giocare Geranio. Rivediamo il Mancino dal limite del numero undici. Corre Pipitone. Pallone perfetto per Mazzeo. Che controlla. E col destro. Non sbaglia. 7-2 per il Taormina. Doppietta per il numero diciotto. Rivediamo il controllo di Mazzeo. Che poi davanti Pellizzeri. Non ha sbagliato. Centorrino. Supera un avversario. Prova il tiro dal limite. 8-2 Taormina. Arriva la terza doppietta di giornata. Quella di Centorrino. Rivediamo la sua progressione. E poi il suo Mancino. Decisivo per l'8-2 del Taormina. Riceve dal limite Trischitta. Poi tenta addirittura la conclusione. Che si stampa sulla traversa. Rimane a terra il 5. Ma continua a giocare il Taormina. Centorrino. Pallone giocato verso Mandini. Che controlla di testa. Poi carica. Fermato da Pellizzeri. Ma si interrompe il gioco. Punizione corta per il Free Time. C'è il colpo di testa che finisce a lato. Ci aveva provato in questo caso Di Luca. Pipitone è sterzata. Interessante su un avversario. Prosegue l'azione dell'8 che adesso scarica su Mandini. Controllo. Poi il tiro. Che finisce alle spalle di Pellizzeri. C'è gloria anche per il 14. 9-2 Taormina. Esultanza con tanto di selfie per i ragazzi in maglia giallo-blu. Rivediamo. L'assist di Pipitone. E il controllo perfetto di Mandini. Che poi ha insaccato. Battendo Pellizzeri. De Marco gioca con un compagno. Prova ad avanzare il Taormina. Ma c'è il tripice fischio di D'Amico. Che assegna la vittoria alla formazione ospite. Che ha battuto. 9-2 il Free Time. E adesso vanno a festeggiare sotto la tribuna i ragazzi. Ottima prova del Taormina.